Ciao ragazzi, vedrete sicuramente il mio super faccione in primo piano, però questa è l'inquadratura. Allora, come mai questo video? Questo video nasce dalla necessità di soddisfare diverse richieste. Ringrazio un'iscritta in particolare che ha sollecitato la pubblicazione di questo video e che in realtà è nato anche, soprattutto in collaborazione e tramite richiesta di uno dei miei... Vabbè, lui non vuole essere chiamato leader, diciamo colleghi, diciamo responsabili, non lo so. No vabbè, uno dei, sì dai, diciamo così, responsabili, quindi una persona un po' più di esperienza che è nel mio gruppo di Shogun, nel mio team di Shogun, che appunto vedendo i miei video ha chiesto gentilmente la possibilità di crearne uno sul piano marketing. Quindi per capire un attimino quali sono i guadagni con Shogun e come si guadagna e come si calcola questo guadagno, no? In maniera tempestiva, anche se comunque Shogun dà ai propri consulenti la possibilità di avere un calcolo automatico nel proprio portale. Quindi quando voi accedete nel vostro profilo avrete un'apposita sezione dove vi compare il vostro guadagno già calcolato. Questo è un modo per tenere il tutto sotto controllo e capire al meglio quanto si deve andare, si va a guadagnare. Allora, sono due le entrate che si hanno con Shogun all'interno del mese. Se questo è fatturato del mese, lo dà il mio venduto nel caso in cui io sono entrata in Shogun e nessuno è entrato sotto di me. Cosa vuol dire nessuno è entrato sotto di me? Vuol dire che io non ho iscritto nessuno. Quindi il mio fatturato lo darà la mia capacità di aver venduto all'interno del mese e quindi sarà la somma delle vendite che io ho fatto. Quali sono queste percentuali? Quanto mi spetta? In questa tabellina qui, vedete, trovate le percentuali. Se avete fatto da 0 a 49 euro di fatturato, non c'è riconoscimento di percentuale. Da 50 euro fino ai 399 la percentuale del 3%, da 400 a 1199 del 6%, da 1.002 a 2.499 è del 9%, da 2.005 a 5.499 è del 12%, da 5.500 euro fino a 8.999 euro è del 16% e sopra 9.000 euro abbiamo il 20% di guadagno. Ora, se io sono da sola e se ho fatto 20 euro di venduto, di fatturato, ho capito, ho ben capito che non mi spetta niente, nessuna percentuale in più di riconoscimento. Se ho fatto 64 euro, quanto mi spetta? Mi spetta il 3%, perché rientro nella seconda fascia indicata in questo schemettino. Se avessi fatto 3.400 euro, mi spetterebbe la percentuale del 12%. Vi ho detto delle cifre a caso, ma è molto elementare, il tutto lo vedete in maniera chiara all'interno di questa tabella. Ora andiamo a complicare un po' le cose. Che vuol dire a complicare le cose? Andiamo a vedere quale sarebbe la percentuale di guadagno che mi spetterebbe se io avessi provveduto a iscrivere sotto di me delle persone. Facciamo un esempio con una Letizia, che sono io, che ha iscritto all'interno dell'azienda 3 persone. Ora, abbiate pazienza, mi tremerà un po' la mano. Lo scrivo qua insieme a voi. Purtroppo non riesco a fare il doppio puntamento perché sennò vi farei vedere il tutto. Mettiamo una L di Letizia in alto. Ok? Faccio tre piedini, tre lineette. Vado a indicare. Lo dedico ai miei colleghi di Shogun. La M di Mimmo, la B di Bruna, e mettiamo la A di Adele. Quindi ci sono io in alto. Magari. La M di Mimmo in basso, al centro la B di Bruna e la A di Adele. Ok? Quindi tre persone che sono state iscritte da me. Ora, io ho venduto 54 euro di prodotti. Lo vado a scrivere in alto. 54 euro. Mimmo ha fatto 104 euro di venduto. Ok? Bruna ha fatto 400 euro di venduto. E lo vado a scrivere sotto. 104 alla M, 400 alla B, in alto ci sono io con 54 euro. Poi c'è Adele. Adele ha fatto 2000 euro. di venduto. E glielo vado a scrivere sotto. Sommando 2000 più che abbiamo detto sono i soldi fatti il fatturato ottenuto da Adele più 400 euro che è il fatturato ottenuto da Bruna più 104 euro che è il fatturato ottenuto da Mimmo più i 54 euro ottenuti da me stessa. Andiamo a tirare le somme. Faccio i calcoli direttamente con voi. Abbiamo un fatturato totale della mia famiglia chiamiamola così quindi delle 4 persone di 2558 euro. Cosa vuol dire? Vuol dire che la famiglia di Letizia dove a capo ci sono io tutta la famiglia quanto ha fatto di percentuale? 2558 in quale fascia rientra? Nella fascia del 12% quindi Letizia con tutto il suo albero genealogico ha raggiunto una percentuale del 12% A questo punto come si calcola il guadagno? Sui suoi 54 euro Letizia prenderà il suo il 12% del suo albero genealogico Passatemi per farvi capire un attimino che stiamo parlando del gruppo di Letizia quindi prenderà il 12% sui suoi 54 euro Poi Mimmo Mimmo quanto ha fatto? Abbiamo detto ha fatto 104 euro quindi in quale fascia rientra? Rientra nella fascia del 3% glielo segno accanto a Mimmo ora gli vado a segnare un 3% e invece Bruna che ha fatto 400 euro andiamo a vederlo nella tabellina in quale fascia rientra? In quella del 6% e glielo vado a scrivere sopra 3% a Mimmo 6% a Bruna e Adele? Adele ha fatto 2.000 2.000 euro dove sta il 2.000? Sta nella percentuale corrisponde alla percentuale del 9% e glielo segno 9% a questo punto ho guadagnato il 12% che è la percentuale che la mia famiglia mi ha permesso di ottenere grazie a tutto il fatturato appunto del nostro gruppo il 12% sul mio venduto ovvero su 54 euro ma su Mimmo su Bruna e su Adele quanto guadagno? non facciamo non facciamo non facciamo altro che fare la differenza della percentuale globale della famiglia con le percentuali ottenute dai singoli consulenti che stanno al di sotto del capo famiglia diciamo così del capo gruppo quindi andrò a fare il 12% meno il 3% 12 meno 3 fa 9 quindi guadagnerò il 9% sul fatturato di Mimmo passiamo a Bruna 12 meno quanto ha fatto Bruna? il 6% 12 meno 6 fa 6 su Bruna guadagnerò il 6% e Adele invece quanto ha fatto? Adele ha fatto il 9% quindi 12 meno 9 fa 3 quindi su Adele guadagnerò il 3% quando è che la situazione non torna più di tanto? quando è che non tornerebbe più di tanto? non tornerebbe nel momento in cui uno delle tre persone al di sotto di me va a totalizzare ad ottenere un fatturato mensile talmente alto da raggiungere la percentuale del gruppo cosa vuol dire? che se Adele avesse fatto 2500 euro sarebbe stata lei colei che avrebbe portato tutta la famiglia comunque alla percentuale del 12% però a questo punto lei in primis rientrerebbe all'interno della fascia del 12% e nel momento in cui io su Adele non mi vado a segnare un 9% ma mi vado a segnare un 12% perché abbiamo appunto ipotizzato che abbia fatturato 2500 euro io quando vado a fare il giochetto delle sottrazioni su di Adele io non andrei a guadagnare niente perché andrei a fare il 12% meno il 12% che lei mi è andata ad ottenere so che è un po' ingarbugliato e so che con il fatto di volervi parlare face to face e facendovi vedere il foglio è un attimino complicato capire i vari scambi di cifra e quant'altro però questo è un modo per farvi capire che il guadagno su Shogun si ha con una percentuale sul venduto una provvisione sul fatturato sia personale se sia da soli che del proprio gruppo se abbiamo creato un team una percentuale data appunto da tutto il fatturato del proprio gruppo che viene calcolato sul fatturato singolo del capogruppo e che va a creare delle dei guadagni dati dalla differenza della percentuale del gruppo generale meno le singole percentuali raggiunte dai consulenti che sono al di sotto del capogruppo se avete bisogno di delucidazioni e magari anche fare delle domande su degli esempi personali quindi dei casi personali io lascio in descrizione l'indirizzo email come sempre il mio profilo facebook in maniera che voi in chat possiate contattarmi parlo a tutte le ragazze nuove se vi sembra arabo in realtà mentre ne parlo mentre ne discuto questa tesi lo sembra sembra arabo anche a me non vi preoccupate sono calcoli a cui non ci avviciniamo ogni giorno quindi è normale che possa suonare nuovo alle orecchie vi assicuro che è un calcolo veramente matematico una volta che ci siete dentro specialmente poi avvalendosi dell'aiuto del portale il tutto verrà automatico vi rendrete conto che sarà una cosa automatica e scontata a fine periodo calcolare quanto ci spetta io ragazzi vi mando un bacione grande grande spero di esservi stata un pochino d'aiuto anche se so che magari sarebbe stato meglio un video improntato su una lavagna vedo di farcela studierò questa cosa ho dei problemi un attimo di inquadratura fotocamera il cellulare che mi prende solo frontale non retro insomma vabbè mi organizzerò e niente ringrazio comunque il canale perché mi ha permesso di conoscere molte di voi e niente vi mando un bacione grande grande alla prossima ciao ciao